la JBL link barra è la prima soundbar ad essere dotata di google assistant integra anche android tv google chromecast e offre una potenza audio di 100 watt a un prezzo di listino di circa 400 dollari ma non è ancora distribuito ufficialmente da JBL in italia è possibile però trovarla su dei negozi online come conrad ancora poco conosciuto ma che offre diversi prodotti che arrivano direttamente dagli stati uniti che quindi è possibile acquistarli in anteprima sul conrad la link bar ha un prezzo di listino di 429 euro un prezzo non elevatissimo considerate tutte le funzionalità che offre questa soundbar ma andiamola a vedere nel dettaglio la link bar ha un bel design semplice ma molto gradevole è abbastanza compatta e quindi si posiziona perfettamente sotto al televisore non occupa molto spazio e sul pannello superiore sono presenti alcuni tasti fisici il primo serve per selezionare la sorgente video il secondo per il bluetooth poi ci sono due tasti per regolare il volume e in più c'è un tasto per disabilitare il microfono questo può essere utile ad esempio quando si vuole essere sicuri che google assistant non si avvia automaticamente in più sul pannello frontale ci sono quattro led che sono utili a tenere sotto controllo visivamente il volume della soundbar sul retro della link bar invece c'è naturalmente la porta di rete lan poi c'è l'ingresso ottico se si vuole collegare un televisore appunto col cavo ottico audio poi c'è l'ingresso audio normale con il mini jack poi ci sono tre ingressi hdmi ai quali si possono collegare tre sorgenti video come può essere un decoder come può essere una console e così via e poi c'è anche una porta usb c che però non è utilizzabile questa porta usb ci serve quindi per operazioni dal servizio di assistenza quindi per l'utente normale comunque non è utilizzabile è in effetti la mancanza di una porto usb sulla link bar è una delle cose che non mi sono piaciute perché magari qualcuno avrebbe voluto poter riprodurre sul proprio televisore dei contenuti multimediali che ha su una pendrive o su un hard disk esterno il telecomando fornito in dotazione con la link bar è molto semplice ma di buona qualità ed è anche abbastanza pratico ci sono i tasti per il volume per attivare l'assistente google per andare nella schermata home quello per il bluetooth naturalmente i tasti per il per poi avviare velocemente netflix quello per selezionare le sorgenti e quello per regolare per scegliere la sorgente audio poi c'è questo jog centrale che permette di muoversi all'interno del menu però non è touch quindi non è come quello che si può trovare su alcuni telecomandi che permette di muovere il cursore come su un touchpad comunque abbastanza pratico la link bar a bordo la piattaforma android tv questo permette di trasformare un qualsiasi televisore o monitor in una completa smart tv perché attraverso android tv poi si possono installare app e giochi proprio come si fa su le smart tv che si trovano in commercio tra le tante app che ci sono sulla link bar c'è naturalmente netflix youtube rai play ma manca amazon prime video ed è un vero peccato perché la piattaforma di amazon sta comunque riscuotendo abbastanza successo perché ci sono diversi contenuti esclusivi che sono molto apprezzati inoltre la piattaforma di streaming di amazon viene fornita gratuitamente a tutti coloro che hanno un abbonamento amazon prime che ha un costo molto più contenuto rispetto ad altre piattaforme di streaming l'interfaccia di android tv è molto semplice da navigare può essere personalizzata scegliendo le applicazioni che si vogliono mettere in evidenza la link bar offre un audio da 100 watt che è sicuramente migliore della maggior parte dei televisori in circolazione quindi consente di migliorare notevolmente l'audio integrato della propria tv 100 watt sono abbastanza sufficienti per poter riempire una stanza anche di grandi dimensioni non è dotato di subwoofer quindi non abbassi abbastanza profondi ma comunque questo non vuol dire che i baffi i bassi siano assenti anzi sono si sentono abbastanza bene considerato appunto la mancanza di un subwoofer quindi anche dal punto di vista della qualità audio non posso che ritenermi soddisfatto quello che avrei voluto però è che trattandosi di una soundbar ci fossero dei controlli audio un po più avanzati che mi potesse dei controlli che mi potessero far lavorare sull'equalizzatore per poter personalizzare l'audio invece purtroppo si possono regolare solo alcune impostazioni base quindi scegliere tra alcune modalità andando nel menu delle impostazioni selezionando suono qui è possibile selezionare quindi solo alcune modalità per il suono scegliendo tra standard film music e voce oppure regolare il livello dei bassi diciamo il minimo indispensabile integrato nella link bar c'è anche l'assistente google questo vuol dire che questa soundbar che è la prima ad essere messa in circolazione appunto con l'assistente google integrato può essere utilizzato come uno smart speaker o ancora meglio come uno smart display proprio perché essendo la soundbar collegata ad un televisore le risposte di google possono essere visualizzate anche sul televisore ok google com'è il meteo ok google mostrami la ricetta per la pizza napoletana ok google raccontami una barzelletta tra le altre funzionalità che è possibile trovare sulla link bar c'è sicuramente supporta la cromcast quindi è possibile inviare i contenuti direttamente dallo smartphone e la funzionalità tv arc che praticamente consente di ascoltare attraverso la soundbar l'audio proveniente dal televisore utilizzando lo stesso cavo hdmi che viene utilizzato per collegare la soundbar in uscita al televisore quindi lo stesso cavo audio e lo stesso cavo hdmi funziona sia in ingresso che in uscita in conclusione la link bar l'ho trovata un dispositivo only one davvero molto utile per chi ha un vecchio televisore se è già magari una smart tv di ultima generazione forse non ti sarà molto utile però se hai un vecchio televisore oppure vuoi avere un qualcosa di molto più intelligente la link bar può essere sicuramente un'ottima soluzione perché in un unico dispositivo ai si una soundbar che ti permette di migliorare l'audio del televisore ma al tempo stesso ai l'assistente di google che quindi ti permette di gestire il tutto con dei comandi vocali e divertirti a chiedergli un po di tutto come faresti con qualsiasi speaker intelligente e in più hai la piattaforma android tv che ti permette di trasformare qualsiasi televisore in una smart tv quindi installare giochi app accedere a contenuti streaming online e così via naturalmente la link bar non è perfetta perché ci sono alcune cose che mancano come ad esempio la porta usb che avrebbe permesso di riprodurre i contenuti video e audio o anche delle foto che sono presenti su una pendrive su una periferica di memorizzazione esterna avrei preferito inoltre che ci fossero maggiori controlli per l'audio proprio perché trattandosi di una sound bar mi sarei aspettato che potessi regolare meglio il suono proveniente appunto dalla soundbar soundbar che può essere utilizzata anche come secondo speaker per un qualsiasi dispositivo bluetooth proprio perché integra appunto la connessione bluetooth e quindi Grazie.